In occasione dei cento anni di storia dell'eroe nazionale Nazario Sauro, presente nella toponomastica sassarese, è stato presentato a Sassari un libro scritto dall'ammiraglio Romano Sauro, nipote del più famoso Nazario. L'incontro con gli studenti si è svolto nell'aulamagna del liceo scientifico spano ed è stato proposto dal referente della Lega Navale, Stefano Maciuccu. La pubblicazione ripercorre la storia dell'eroe Nazario Sauro, grande protagonista dei libri scolastici e, ciononostante, poco conosciuto dai ragazzi, un'opera ricca di fatti inediti riscoperti in documenti, diari, scritti e racconti familiari, che riporta all'attenzione un protagonista della Prima Guerra Mondiale, un marinaio d'altri tempi, riletto in modo più attuale e moderno, ma sentiamo un commento sull'opera dello stesso autore. Io sono uno dei figli dei figli di Nazario, lui era mio nonno sostanzialmente. Io sto facendo un giro d'Italia in barca a vela, iniziato a settembre di quest'anno da Sanremo, mi porterà a toccare cento porti in Italia e anche all'estero, andrò in Albania, in Croazia, in Montenegro, in Slovenia, andrò nei posti dove Nazario Sauro e mio nonno hanno navigato, soprattutto l'Alto Adriatico. Porto in giro un libro che ho scritto insieme a mio figlio, che si chiama Nazario Sauro, storia di un marinaio, i cui diritti d'autore, ricavato, andrà un'associazione on loose, che si chiama Peter Pan, di Roma, che si occupa di bambini malati di cancro. Quindi c'è questo abbinamento tra il libro e questa associazione, quindi un motivo di solidarietà.